Di solito se ne parla quando ci sono gli eventi più tragici, dalle guerre alle catastrofi, ma il giorno per giorno, che poi dovrebbe essere l'approfondimento necessario, non c'è quasi mai, almeno c'è un'occasione come questa e ne siamo contenti. Dario Fabri tra i protagonisti della seconda edizione del festival dedicato alla politica e alla contemporaneità, Altiscafali. Analista geopolitico e direttore della rivista mensile Domino, periodico che si occupa del mondo che cambia, strumento di geopolitica pensato per trascendere la cronaca, sondare le profonde cause dei fatti e scorgere il futuro. Al teatro Petrarca ha incontrato il pubblico nel suo appuntamento Il mondo che cambia, come leggere gli eventi con gli strumenti della geopolitica umana, ponendo nuovamente i popoli al centro della nostra indagine, tra i suoi titoli appunto geopolitica umana e atlante storico. Più di qualche scuola mi ha invitato a parlarne, a discuterne con gli studenti, non sarebbe male, io credo che il nostro sistema di istruzione abbia necessità di modificare l'approccio occidentalistico, lideristico, giuridico o economico per rimettere al centro studio antropologico dei popoli che poi ciò che veramente muove il mondo, ne parleremo anche stasera, insomma i sentimenti, le schifezze, le idiosincrasie, le nobiltà dei popoli e la loro storia, anzi le storie dette al plurale sono ciò che muove il mondo molto più di tutto il resto.